allora buongiorno a tutti e bentrovati allora sono un po' indietro sul discorso di fare analisi settimanale ora vedremo un attimo insieme alcune cose siamo in apertura europea sto registrando durante l'apertura europea pertanto sapete che non sono molto attento alla fase di apertura se non quella subito successiva intorno tipo alle 10 10 e mezzo e ne approfitto di questa diretta per fare un po un punto della situazione anche su quello che noi stiamo sviluppando e che adesso finalmente possiamo annunciare in settimana con tutti i programmi con tutti gli orari con tutte le cose che abbiamo preparato come abbazia deg piccola premessa il concetto di abbazia viene da una mia un po psicosi dovuta dal fatto che sono sempre stato molto incuriosito e sostenitore del progetto che ai tempi del medioevo sto parlando del cinquecento dopo cristo cresce san benedetto di creare quella che è stata più la più grossa multinazionale del medioevo una abbazia con delle regole ben precise all'interno del quale si sono sviluppate tutta una serie di contenuti di prodotti che poi alla fine hanno fondamentalmente dato un messaggio completamente diverso rispetto a quello che era un po la dispersione di quel periodo dopo il crollo dell'impero romano e con l'inizio della fase medievale è stata praticamente un'esperienza che ha dato tutta una serie di stimoli procedure che vengono molto replicate anche nelle aziende di oggi perché fondamentalmente vengono prendersi ad esempio tutte le fasi di regolamenti di fase di studio che i monaci benedettini fondamentalmente tuttora fanno come un esempio di eccellenza appunto nel gestire qualsiasi situazione nel caso del trading fondamentalmente se noi andiamo adesso apriamo youtube ci troviamo di fronte una tempesta perfetta di informazioni di fenomeni di tutta una serie di situazioni per cui fare ordine all'interno di questo tipo di attività è complicato e secondo me diventa per quello che fondamentalmente è stata la mia esperienza è cruciale riuscire a concentrarsi su determinati concetti su determinati contenuti affinché la persona il trader possa ottenere delle informazioni quindi dei supporti tali per sviluppare il proprio stile di trading senza dover per forza andare a tutte le volte a cercare il guru di riferimento la persona di riferimento da copiare ciecamente sul quale praticamente puoi fare eventualmente gli eventuali disastri di cui tutto ormai siamo al corrente l'altro importante motivo per cui ci siamo un attimino anche messi in gioco sotto questo aspetto anche dal punto di vista proprio fisico non solo online è il fatto che questo tipo di attività sta penso più precisamente dal periodo pandemico ha avuto una trasformazione tale sia a livello di partecipanti ma anche a livello di dinamiche di mercato per cui è molto importante riuscire a combinare bene vecchi concetti con quelli nuovi saperli interpretare e saperli condividere nella maniera più idonea affinché appunto chi vuole di questa attività fare una professione o semplicemente chi vuole invece costruirci un suo percorso di rendita o di differenziazione di quanto riguarda il tipo di investimenti che può fare li va tenuto di conto perché il mondo fondamentalmente soprattutto nei mercati finanziari ha avuto delle trasformazioni che difficilmente vengono ben interpretate dal punto di vista proprio concettuale da chi opera o da chi si propone come insegnante o come leader nei confronti di trader che vogliono imparare. Quello che è essenziale soprattutto quello che il nostro spirito guida soprattutto in questo senso qui è proprio quello di non creare degli degli strumenti da replicanti scusate se uso questo termine cioè nel senso di dire guardate seguite noi perché se seguite noi avete risolto i vostri problemi anzi è l'esatto contrario quello che ci proponiamo è come è successo nel 2023 quando abbiamo realizzato col corso estivo una 3d room che poi alla fine un po' per gioco un po' per passione è diventato un esperimento un laboratorio di tutta una serie di iniziative che adesso hanno avuto un'evoluzione assolutamente inaspettata dove le persone determinate persone che vogliono di far di questo una professione vogliono crearsi un percorso di un certo tipo possono condividere e possono crescere fondamentalmente evolversi grazie anche alla partecipazione di tutti mantenendo fisso un principio base che il trader che vive di questo lavoro è fondamentalmente un professionista che ha un proprio metodo un proprio stile e quindi tutte le informazioni che vengono date o che vengono recepite al di fuori della mia attività di trading devono essere solo propedeutiche a questo mio stile non possono essere assolutamente sostitutive perché sennò poi arrivo a dover dare completamente il mio destino finanziario e quindi la mia professione a darla in mano a chi in quel momento potrebbe anche farmi guadagnare o potrebbe anche darmi le giuste indicazioni ma nel momento in cui questo sparisce o perlomeno inizia lui a sbagliare io mi ritrovo senza delle basi solide e formative sul quale io possa da solo creare un mio percorso quindi un mio profitto regolare e una quindi un'attività e quindi una professione allora detto questo condivido un attimo con voi alcune indicazioni tutte queste saranno poi sviluppate in tutta una serie di video post newsletter e compagnia bella vi invito sin da adesso sul nostro sito trovate su youtube tutti tutto tutti i link su cui poter accedere il sito è stato risistemato questa settimana verrà anche fatta la parte smartphone in settimana perché c'è un lavoro abbastanza importante abbiamo voluto anche lì fare quasi tutto in casa quindi verranno sviluppati quindi vi invito di iscrivervi alla newsletter di attivare tutte le notifiche possibili per chi è interessato ovviamente per avere le informazioni e soprattutto il canale telegram ora vado a condividere e andate un attimo solo perché sto improvvisando eccolo qui il nostro canale telegram è quello che abbiamo attivato come nuovo canale telegram che sarebbe dag trading dove vedete che puntualmente vengono dati avvisi se non anche degli analisi attualmente e vi ringrazio veramente di cuore ci sono 49 iscritti un canale che è nato praticamente due o tre settimane fa e su questo praticamente uno può essere informato a tempo reale di quelle che sono le nostre iniziative poi ci sono canali social instagram twitter o x che si voglia e youtube youtube sarà essenzialmente la base di partenza di tutte le iniziative quindi tutto quello di cui avremo di cui parleremo tutte le iniziative che faremo tutte le attività che svolgeremo saranno esclusivi cioè partiranno da youtube nel senso che youtube diventerà proprio il contenitore vero e proprio di tutte le info che poi si esprimeranno in maniera scritta sul sito su una newsletter settimanale per poi arrivare diciamo sui social e che richiedono purtroppo molta sintesi in un in un tipo di argomento che di sintesi ne vuole veramente poca perché vuole che gli argomenti vengano sviluppati allora vediamo brevemente questo programma di modo per dare anche a chi ha tentato e chiedo scusa però sono state fatte una serie di sperimentazioni di seguirci in diretta su youtube avete visto che ci sono state varie sperimentazioni sugli orari e tutto il resto penso di essere arrivata ad un'organizzazione perché ci vuole organizzazione per farlo in una maniera più adeguata per poter dare un palinsesto vero e proprio alle dirette ai video a tutti i programmi che abbiamo in mente queste iniziative che partono fondamentalmente da oggi 23 settembre che vedranno un'evoluzione come programma autunnale da qui a dicembre chiaramente con tutta la serie di accorgimenti e di cosiddette di aggiustamenti di rotta che sono inevitabili allora le iniziative della Deg Abit quindi della Bazzia Deg saranno le seguenti quella principale saranno le dirette youtube con palinsesto orari definiti anche fondamentalmente con degli argomenti all'interno di un cercando di fare così un programma di modo anche per chi è interessato o meno a quella cosa lì decidere se partecipare o no a questa diretta o compagnia cantante da qui dico subito una cosa fondamentale io vengo molto sollecitata a dare il meglio di me stesso quando sono in diretta se mi vengono fatte domande perché se non ho questo anche una domanda mandate per mail non importa come però mi piace praticamente lavorare anche su casi specifici o su delle domande specifiche fatte dagli utenti le live youtube con intervento dei traders della Degabbi quindi dei nostri traders che stanno collaborando e che non finisco mai di ringraziare perché hanno lo hanno fatto in un periodo gratuitamente molto molto lungo testing esperimenti e compagna bella hanno anche seguito una persona come me che è veramente non è facile seguire live youtube con intervento di traders d'arsenio arsegno è un contenitore che è il prodotto fondamentalmente di questa abbazia della nostra 3d room e come ora faccio un paragone abbastanza pindarico come ai tempi delle abbazie bellettine tutto quello che erano i prodotti che venivano elaborati all'interno poi uscivano fuori e avevano ed erano anche considerati anche dei buoni prodotti arsegno praticamente sarà diviso in due anime anche su questo daremo finalmente una presentazione definitiva unanima di quello che il sistema automatico l'automatismo quindi tutta una serie di sistemi che possano dare maggior automatismo all'attività del trader e l'altro invece quello dei canali dove vengono condivisi e qui voglio essere chiara ai fini soprattutto didattici soprattutto di di conoscenza dei metodi da parte dei singoli traders che hanno affinato dei metodi personali che possono essere molto molto utili anche perché vengono poi supportati da articoli e se andate sul blog del sito iniziate a vedere gli articoli settimanali e di chi segue questi canali che sono dei canali telegram un canale telegram con qua per ora quattro stanze orientate a quattro metodologie diverse di trading due semi automatico c'è con il bot che praticamente indica l'esistenza di un setup o di un pattern e due invece manuali con due traders che con la loro metodologia indicano le attività che stanno svolgendo il corso della degac academy sulla legge dei grafici rimani forti è pronto ho già fatto i primi colloqui con i primi partecipanti sarà fatto ad aule molto piccole in maniera perché è molto presente la parte di coaching di questo corso qui perché diciamo i video le dispense sono già pronte perché è una riedizione del corso 2023 però la parte importante che mi è stata richiesta e per questo siamo dovuti organizzare un po di più quella parte in cui ci sarà l'attività proprio di intervento mio personale con i partecipanti nell'evoluzione degli argomenti che questo corso prevede anche in questo caso per chi si è scritto al newsletter o per chi già da tempo segue la mailing della degaccelence degaccelence chiocciolagmail.com sarà avvisato sarà avvisato per telegram sarà avvisato per instagram per x e per youtube sui post inizierò a fare i post su youtube e vi consiglio di seguirli perché sarà la parte su cui mi concentrerò di più quindi il corso partirà dal primo ottobre questa settimana saranno definiti i contenuti poi la newsletter settimanale con la raccolta degli articoli e delle news dell'abbè queste saranno pubblicate settimanalmente a partire dalla prima settimana di ottobre con una raccolta di tutto quello che è stato detto nella settimana più cose nuove e ulteriori curiosità molti di questi articoli vengono pubblicati sul blog probabilmente altri sono articoli che vengono postati su telegram su post youtube considerazione compagna bella e faranno parte di questo contenuto della newsletter video didattici su youtube della degac academy con raccolta degli shorts dedicati più question time questa è un'iniziativa nuova nel fine settimana verranno fatte delle pillole didattiche che sono estratti del corso e di futuri corsi che sarebbe fra virgolette la parte chiamiamola gratuita di formazione da parte dell'academy chiaramente non completa comunque con delle informazioni utili perché fondamentalmente non c'è la pretesa che tutti vogliono fare il corso però siccome molti di questi argomenti sono argomenti che io ereditato da formazioni che ho fatto nel tempo dato che non sono completamente di mia fattura non è non è anche giusto poter condividere alcuni aspetti di queste già avete iniziato a vedere delle riedizioni di video che abbiamo fatto su youtube o nessune mani forti l'altro sulle regole per seguire le mani forti che erano video che ho fatto l'anno scorso che avevano proprio questo scopo di iniziare a dare delle informazioni su youtube senza che rientrino nel corso però sono pillole nel senso che il corso chiaramente ha un'espressione un'espansione molto più importante di questi argomenti comunque comunque devo dire perché li ho rivisti sono comunque video che anche se non dovessi partecipare al corso delle informazioni su cui lavorare le danno cioè non su questo non siamo cioè non usiamo lo stesso sistemato ti faccio vedere il video poi dopo ti dico allora iscriviti al corso ne saprai di più no no uno può anche dire mi prendo 20 settimane di tempo perché sarà una pillola settimana e piano piano arriva anche lì a trovare delle informazioni che possono essere parte di questo corso poi ci sarà la question time allora e su questo risolveremo questo dubbio i video probabilmente saranno registrati però sarebbe carino se riuscissimo a fare però mi ci vuole una massa critica di partecipanti semmai scrivetemi anche sui commenti cosa ne pensate il sabato mattina o la domenica mattina vediamo quali dei due giorni più indicato quello di fare proprio una mezz'ora un'ora di diretta youtube con le domande dove io sto qua e rispondo alle domande senza io che porti degli argomenti ma che sia esclusivamente di domande e risposta in diretta youtube e poi le live youtube durante la settimana per domande degli iscritti alcune live avranno le live su i contenuti che posso dare possono durare 30 minuti ai 45 minuti però riempire anche live un po più lunghe che possono essere di 60 minuti di un'ora e mezzo con delle domande da parte degli iscritti e quindi proprio fare un palinsesto e dire in questa live qui daremo spazio anche le domande degli iscritti allora tutto questo anche perché bisogna dare credito anche un lavoro secondo me perché qui a febbraio non c'era niente tranne un corso fatto da casa mia l'estate scorsa è una tede room online che stava iniziando a maturare tutta una serie di idee tutto questo è avvenuto con la costruzione di una struttura che è partita da marzo e di cui secondo me anche abbastanza velocemente e con cui per sei mesi abbiamo cercato di trovare una rotta e una è una destinazione d'uso diciamo adeguata non improvvisata ma con un programma abbastanza chiaro quindi la struttura della deg se aggiungono è meglio fondamentalmente adesso e si spera che sia solo l'inizio è fatta di cinque persone che lavorano presso questo ufficio che a Carrara che è il nostro salotto del trading è un palazzo medievale che ho voluto a tutti i costi perché è uno dei più appetibili proprio della zona considerate il secondo posto più antico di Carrara il primo il Duomo una costruzione che è iniziata nel 12003 dicono che ci ha dormito Leonardo da Vinci Petrarca eccetera eccetera cose che vanno dalla leggenda metropolitana invece cose documentate sicuramente questa era la strada della via della lunigiana che era la via che portava praticamente tutto tutti era proprio questa strada qui davanti era proprio il percorso che facevano nel Medievo per passare dal mare per andare nelle zone emiliane dove c'erano un po' le città medievali delle emilie quindi sono chiamate sono sicuramente passati tutti però qualcuno si è fermato qualcuno no è restato anche il primo comune storico questo ufficio proprio questo di Carrara qui dentro lavorano cinque persone cinque persone che hanno lo scopo di dare ed è questa la differenza che vorrei che ci fosse e spero di riuscire a farlo di dare un' attenzione personale a chiunque abbia a che fare con questa attività qua con con noi nel senso che non sia esclusivamente un lavoro ti butto un corso su YouTube tu lo compri su internet te lo fai dura quei otto ore come facevo a volte le corse fine settimana otto ore e poi arrivederci a fare i tuoi se non fai come me sbagli se fai come me impari punto no qui e le persone che lavorano qua dentro avranno un ruolo e onestamente devono ancora devono anche loro crescere perché questa è un'attività che nessuno conosce realmente tutti dicono che esiste ma nessuno conosce nelle dinamiche sia mentali psicologiche ma anche tecniche però devono dare supporto alle persone che possono avere a che fare con noi quindi hanno bisogno della nostra del nostro aiuto inoltre oltre queste persone che sono distanza in distanza qui ci sono cinque traders invece che provengono dal corso del 2023 che a loro volte sono voluti mettere in gioco hanno espresso tutta una serie di servizi prodotti che sono stati testati sperimentati a compagni a bel che seguono i canali di sistemi di trading con i relativi articoli news e questo è il primo gruppo di traders che si spera che in questo caso venga ampliato di persone che hanno deciso non esclusivamente di è che la serie room è diventato un gruppo di amici fondamentalmente non è esclusivamente di frequentare questa serie room al in cui per cui per avere l'accesso e questo è inderogabile bisogna aver fatto questo corso di formazione perché dobbiamo parlare un linguaggio unico che è il linguaggio della legge dei grafici questi cinque traders hanno un accordo di collaborazione con la Deg a partire da ottobre dove praticamente forniranno dei servizi online di un certo tipo ufficio dedicato al coaching live è alla clinic presso Carrara questo ufficio qui è stato pensato per fare dei piccoli gruppi di massimo tre persone di coaching live cioè di trading insieme di attività insieme di sviluppo praticamente individuale dell'attività di trading la trading room online di cui ho detto prima i canali telegram x instagram e le prossime aperture linkedin e tiktok il canale youtube come contenitori di tutte le info più dettagliate che sarà il punto di partenza il canale telegram dedicata ad avviso ed analisi della Deg trading che abbiamo prima visto bene detto questo scusate se mi sono delungato un po' su questa cosa ma era essenziale andiamoci a vedere un attimino come si è ammessi nelle nella situazione io in fine settimana ho mandato non era questo su telegram delle premesse di analisi dove ho detto che i due punti di interesse che avremo questa settimana saranno uno l'SP500 l'SP500 perché fondamentalmente dalla costruzione di questa trading range daily in cui siamo alla candela 14 si è sviluppato un uncino di prosecuzione long prima uscita da una congestione daily il massimo assoluto ecco qui sarà poi da stabilire se questo massimo assoluto produrrà un uncino ulteriore di prosecuzione quindi RH punto di domanda o se questo massimo assoluto invece ci darà finalmente un segnale di ritracciamento o di inversione addirittura per il momento non c'è traccia anche se oggi l'SP questo è l'SP cash mostra un treno questo è una è una è una è un setup di ritracciamento uno di quelli che usa il segno e di quelli che fanno parte infatti di questo percorso di formazione che vi parlavo che può essere un alla cui rottura del minimo potrebbe fornire un ritracciamento probabilmente anche per testare questa congestione perché questa congestione daily anche vede la prima uscita per ora non ha visto il test questa prima uscita è già di tre candele quindi sarebbe un test molto molto lineare per quello che è la tecnica della prima uscita di congestione che vuole un massimo di tre candele o quando inizia a uscire con troppe candele e inizia a essere una criticità grafica l'altra questa importante che questo grafico presenta una criticità la criticità è che essendo una 3d range a candela 14 essendo sul parte massimo del range la parte minima è questa e quindi l'estensione che ha fatto sotto la replicata sopra può portare ad un movimento di rientro nell'area iniziale della 3d range della prima leg che possiamo considerare questa quindi l'idea potrebbe essere quella che possa a breve fare un ritracciamento che porti eh l'indice almeno in questa eh in questo in in quest'area qui c'è da dire che ora non sto a farlo vedere qui siamo di fronte anche a un'uscita di una 3d range weekly dell'SP ne abbiamo parlato nei video vecchi ne riparleremo in diretta nel momento in cui andremo a rivedere eh tutte le cose eh durante la settimana però battenuto di conto di questo l'altra cosa che avevo condiviso su telegram oltre a una una piccola una piccola eh attenzione sono sugli short gli short che stiamo pubblicando sono altro che stratti di vecchi video e di dirette che possono essere di interesse eh come e come come ricordo cioè come prememoria perché video possono essere lunghi le dirette possono essere lunghi ci sono piccoli stratti chiaramente non danno delle informazioni strategiche cioè non sono contenuti eh importanti però eh è un modo per dire guardate che eh abbiamo affrontato questo argomento nel passato e ci so che lo riaffrontiamo spesso nel futuro l'altro eh elemento di mio interesse questa settimana è Gold lo sapete bene perché gli sto parlando già da una settimana continua come ho visto anche stamani a fare questi massimi assoluti perché perché abbiamo testimonianza reale perché eh un po' di trader li seguo anch'io giusto che tanti tanti ma veramente tanti venerdì non scorso quello prima sono entrati short in over quick e tutta la settimana sta mediando questo short e lui loro lo sanno e finché continuano a fare così questo affare qua non scende pertanto la scelta dell'opzione è stata proprio voluta per dare uno stop e loss sono i put di cui avevo dato mh non indicazioni perché non indicazioni ho detto io ragazzi ho fatto questa cosa qui più che altro per spiegare la metodologia di money e risk management che ho adotto in questi casi qua è stato proprio per evitare di prendere contro un movimento e non sapendo quando eh questo questo diciamo suicidio da parte del retail finiva perché fra analisi ciclica cavoli bazzi questi sono entrati short veramente a primi e si vede perché fa dei massimi assoluti queste candele verdi che vedete qua sono nient'altro che i loro contratti in margin call che saltano vediamolo graficamente graficamente è una criticità on cioè cosa vuol dire c'è una criticità long c'è un testing attivo di una trend line più ripida che aveva fatto oggi probabilmente lo ha fatto perché questa trend line è un po più alta c'è il fatto che la 3d range daily ha una prima uscita long la e la fascia di 3d range questa qui il minimo è qua e il massimo è qua il minimo più o meno a 2.400 2.500 e il massimo è sui 2.000 625 630 ci vuole il test anche per rendere robusto una continuazione long ci vuole un test e questo rh si è sviluppato bene ha dato la sua prima uscita perché questa era la candela 20 quindi l'uscita è stata la candela 22 ci vuole un test e bisogna vedere visto che c'è una punta di triangolo che scade praticamente questa settimana bisogna vedere se il test va in profondità della 3d range o addirittura rischi di uscire al di fuori perché questa è una prima uscita da un triangolo se il test lo rende failur rischia di essere attraversato qual è il sospetto che potrebbe diventare un test failur il sospetto il fatto che ha fatto un uncino senza aver testato prima il triangolo se avesse fatto prima un test sul triangolo poi l'uncino di prosecuzione prima uscita 3d range e fossi long mi sentirei molto più a mio agio qual è l'avvertenza ragazzi questo può fare dei massimi assurdi ripeto finché la gente entrerà short a caso caso perché ha paura di fare tardi questo sale perché le vittime predestinate sono loro il giorno in cui smetteranno di farlo questo scende ok su questo ormai non ci sono dubbi perché è una procedura che viene fatta su tutti i mercati e come del resto sta succedendo sugli indici quindi i due osservati speciali per me sono questi ora andrei velocemente anche a vedere l'apertura questa è la propria film che io condivido sul canale telegram come risultati settimanali un po non tanto per far vedere che si guadagna a far trading no per capire che l'utilizzo di stop loss in maniera adeguata e la frequenza e la frequenza di redditività del trading accontentandosi anche di piccoli movimenti sono molto scalping e scalper su queste cose qua anche se a volte faccio le diluzioni anche dei trade multi dei usando strumenti diversi però l'idea è quella di far vedere che attraverso l'utilizzo di strumenti vecchi abbinati con quelle tecniche nuove si può ottenere da una propria film di cui è un drawdown di 5 mila euro quindi come se si gestisse un capitale 5 mila euro e con le marginazioni come se si gestisse un capitale 10 mila si può ottenere dei risultati soddisfacenti uno stipendio ecco fondamentalmente uno stipendio se c'è un money e risk management adeguato quindi lo condivido tanto per dare l'idea che attraverso determinati accorgimenti si può avere una regolarità non il trade da 1500 euro da 3000 euro da un milione d'euro no una regolarità perché quello che a noi serve è avere padronanza di un metodo che ci permetta anche da soli senza l'aiuto di nessuno di poter trarre un guadagno da questa attività e poterci vivere cioè mi ricordo più di 10 anni fa quando dicevo ho un lavoro o non ho un lavoro e la definizione di dire ho un lavoro per tutti quelli che hanno un lavoro è quello di dire che ho un reddito ho un reddito che dipende dalla mia attività lavorativa se questo reddito non c'è o dipende da qualcun altro non ho un lavoro e quindi il fatto di poter dire ho un lavoro e il giorno in cui ho detto io che piova o ci sia il sole che ci sia una crisi finanziaria o non ci sia che ci sia una guerra o non ci sia ho in mano degli strumenti per dire posso da solo costruirmi un reddito questa è l'attività cioè questo è lo scopo principale della nostra attività e questo si ottiene solamente attraverso determinate accorgimenti dal punto di vista anche di management non solo di tecnica di trading allora l'apertura DAX mi sembra in linea con un inizio di ritracciamento c'è investe che ha dei problemi vediamo se il problema l'ha risolto e non l'ha risolti pertanto vediamolo qui che praticamente sul prezzo cash ma si sta parlando del di un cfd in questo caso di effetti mio se vado a vederlo sul daily fondamentalmente ecco questo un po però fa vedere tutte le operazioni che ho fatto quindi il grafico è completamente è una rottura di questo treno anche il DAX sappiamo che è una 3d range daily quindi bisogna stare attenti sul fatto che possa generarsi uno swing dal punto di vista daily short primo swing short secondo swing day long è possibile swing short sull'intraday in questo caso cosa faccio io una volta che ho chiuso questa diretta e l'ho caricato su youtube sull'intraday andrò su un time frame più basso tipo 5 minuti attenderò la prima congestione che possa essere rotta in questo caso short e se vuole confermare la rottura short daily del treno ok poi sono cose che seguiremo durante la giornata ora vedrò quando oggi potrò fare diretta perché oggi finiamo finalmente di stabilire il programma e tutti i ruoli e in questo senso quindi anche in questo caso qui sarà molto un lavoro in tra day però già questa sensazione che lui possa fare almeno un po di ritracciamento potrebbe darla in giornata potrebbe essere interessante l'altra cosa andiamo a vedere invece gold come messo gold ha voluto stanotte stoppare ulteriormente altri soggetti gli eroi moderni che entrano shorti prima degli altri perché sono più furbi questa rottura di massimo potrebbe essere stato un altro punto in cui sono stati venduti questi deli dei contratti da chi vuole trarre profitti in in faccia ai retail che sono andati short che speravano che nel weekend avvenisse qualcosa per cui se lo ritrovavano più sotto probabilmente se lo sono ritrovati in stop e adesso ci sta che questa cosa qui possa produrre per domani un setup se chiude rossa un treno reverse in questo caso per domani simile al setup che abbiamo oggi su dax e che abbiamo su sp quindi questa è un po' la situazione attuale io direi a questo punto tolgo la condivisione direi di chiudere qui la diretta le analisi settimanali saranno molto più indirezzate su sull'attività grafica voluto fare questo preannuncio in questa diretta proprio perché abbiamo finalmente modo di poterne parlare e vi invito essenzialmente di attivare i notifichi su youtube per il semplice fatto che mi risulta per me molto più semplice avvisarvi però anche il canale telegram può essere d'aiuto per per seguire un po' queste cose qui vi farò avere informazioni per telegram per mail per per chi ancora segue su mail e per tramite i social del palinsesto delle dirette di questa settimana ciao a tutti e alla prossima interrompo qua arrivederci grazie a tutti